Prestazione, catastrofi, questo qui rappresenta una vergogna, una mancanza di rispetto verso i tifosi del PSG, ma non solo, secondo me addirittura una mancanza di rispetto verso il calcio, verso questo sport che noi amiamo così tanto, io sono serio amici, non è un video sfottò, quello che ho visto stasera è allucinante, è una mancanza di rispetto verso il calcio. Vi giuro, questi qui, Neymar, Messi, Mbappé, Hakimi, Donnarumma, Sergio Ramos, tutte queste figurine del PSG che sono riuscite, che non era facile, ad uscire dalla Coupe de France, dalla Coppa Francese, sono riusciti a perdere 3 su 5 delle ultime partite in Lichet, spesso delle battoste allucinanti, anche stasera una battosta 3 a 0, umiliati dal Monaco, sono riusciti ad uscire dalla Champions League sconfitta pesantissima in rimonta contro il Real Madrid e ormai, sapete cosa è successo? Non è arrivato il punto dove tirano fuori l'orgoglio, no, sono andati in vacanza. Questi qui ormai sono in vacanza, non lo dico io, lo dicono i media francesi, lo dicono i tifosi francesi, questi qui ormai sono in vacanza, non gli frega più nulla, sono partiti. Amici, rappresentano mancanze di rispetto, quello che sta succedendo è veramente allucinante, a Parigi, inoltre sui social è scattato l'hashtag in tendenza in Francia, Donnarumma out, vi spero quello che è successo, però onestamente c'è una cosa che a me personalmente fa preoccupare, che a me non rende molto felice, ma adesso vi spiego a cosa mi riferisco, innanzitutto piccola sponsorizzazione a cui ci tengo veramente tanto e poi analisi completa. Innanzitutto volevo ringraziare lo sponsor del mio canale YouTube, XTB, se cercate azioni reali con 0% commissioni, secondo me XTB è la scelta giusta per voi. Inoltre stanno organizzando un'altra cosa fantastica, una masterclass dove potete partecipare online, fine del mese, 30 marzo, alle 17, dove si parlerà di trading, cripto, considerando soprattutto questo periodo molto difficile per tutti noi. Purtroppo ormai l'abbiamo capito tutti, soprattutto lo sentiamo, sentiamo questi effetti veramente fastidiosi, l'inflazione è ai massimi livelli. Questo significa che chi lascia il soldo in banca perde purtroppo potere d'acquisto. E come poter reagire in questo momento di crisi? In questa masterclass saranno presenti delle persone che se ne intendono veramente, per esempio professori, docenti di economia, trader, ci sarà anche un giornalista di sole 24 ore. Secondo me tanta qualità è soprattutto una bellissima opportunità per poter scoprire come investire in un momento di massima insicurezza. Perciò io parteciperò e aspetto anche a voi amici. Allora amici, un evento a cui ci tengo veramente, perché secondo me è di qualità e normalmente uno deve pagare per questo tipo di contenuti, libri, tantissimi corsi a pagamento su internet, così invece qui per i miei iscritti viene offerto in maniera gratuita, perciò io parteciperò e vi invito anche di partecipare amici, non potete perdere nulla, è gratis e secondo me è veramente, rappresenta veramente un valore aggiunto, perciò vi aspetto. Adesso parliamo del Paris Saint-Germain, anche stasera sconfitti 3-0 contro il Monaco, primi dieci minuti umilianti, un Monaco con 70% di possesso di palla nei primi dieci minuti, dopo 20 minuti 8-0 tiri in favore del Monaco, 1-0 dopo 24 minuti assolutamente meritato, Ben Yedar riceve una bellissima palla, però come conclude è stato veramente meraviglioso amici, normalmente uno si aspetta la magia da parte di Mbappé, da parte di Neymar, da parte di Messi, che in questa stagione non è mai arrivato, o poco è arrivato, perché gioca completamente in basso, una posizione dove spesso fa il primo passaggio dei tre passaggi finali, ma difficilmente arriva nella conclusione, o questa sera Messi neanche sul campo, tornando però a parlare di questo gol del Monaco, meraviglioso amici, Ben Yedar diceva una palla sul primo palo, si gira quasi un po' no look e con il tacco la butta dentro, Donnarumma non male ma neanche benissimo sul primo palo, normalmente lui alto 4 metri lo deve coprire, non deve entrare da lì la palla, ma non finisce qui amici questa serata da incubo, veramente da incubo per Gigio Donnarumma, 2-0 segna addirittura il mio connazionale Kevin Folland, la difesa del PSG veramente male, ma in generale l'ho notato anche in Champions League, certamente lì davanti con quel tridente quando va a mille Messi e Mbappé nei mar, fai fatica a fermarli a campo aperto, un Mbappé non lo prendi più, ma in difesa errori spesso posizionali, posizionali veramente imbarazzanti, anche lì nessuna strategia da parte della società, come al solito, come un bambino che accende la Playstation e si fa la squadra su FIFA con un budget illimitato, hanno detto beh, qual è la figurina più famosa degli ultimi 15 anni? Beh, Sergio Ramos, tra quelli ancora in attività, sicuramente Sergio Ramos, tutte le finali che ha deciso, i gol decisivi da difensore centrale, una bandiera, una leggenda, un capitano, un grande leader, allora prendiamo Sergio Ramos, però Sergio Ramos in questa stagione per pochissimi secondi giocati ha preso una marea di soldi, è stato praticamente sempre infortunato, perciò qui vediamo che hanno veramente proclamato male questa squadra, stasera ovviamente giocato anche contro Sergio Ramos e il resto della difesa, amici, è veramente imbarazzante, 2-0, un Kimbembe incredibilmente passivo, faceva footing, relax, non attacca l'avversario, male, devo anche dire, Veratti, prima del gol si fa anticipare, perde una palla veramente sanguinosa a centrocampo e poi nella transizione negativa il Parigi completamente sbilanciato e subisce questo gol. Ma la serata da incubo per gli italiani purtroppo in questa partita non finisce, amici, questo mi fa un po' preoccupare onestamente, avete quanto ci tengo all'Italia, l'Italia si deve qualificare e Veratti onestamente l'ho visto veramente fuori forma stasera, anche al 3-0, innanzitutto Kimbembe regala un rigore, una entrata stupida, colpisce solo l'uomo, malissimo Kimbembe, veramente malissimo, però prima di nuovo Veratti che perde una palla, sanguinosa a centrocampo, tiene, tiene troppo la palla, questo è un po' un difetto di Veratti, un giocatore strepitoso, quando va bene, lui può prendere anche la squadra nelle sue mani, la può fare girare, può dare ritmo, un giocatore super tecnico, ma ogni tanto tende proprio a tenere troppo la palla e questo l'ha fatto oggi due volte e ancora una volta, è la prima volta che lo fa in questa stagione, anche il 3-0 secondo me è stata colpa sua, perché perde ancora una volta una palla sanguinosa a centrocampo, perciò mi fa un po' preoccupare la forma di Veratti, la forma di Donnarumma male, amici, e certo, anche qui una programmazione scandalosa da parte del Paris Saint Germain, cosa significa prendere uno come Donnarumma a quell'età, giovane, appena vinto il campionato d'Europa con la nazionale italiana, deve giocare, cioè fare tornova sulla posizione del portiere, secondo me ha poco senso, il portiere cosa deve avere? Automatismi, deve avere fiducia, cioè non è come un attaccante ultra trentenne dove tu puoi dire beh ha bisogno di tornova, no, il portiere ha solo bisogno di una cosa, fiducia, automatismi e minutaggio, e tutto ciò a Donnarumma non l'hanno mai dato, perciò in continuazione tornova io mi chiedo, beh, se non date fiducia a lui, se non puntate sul ragazzo giovane non lo dovevate prendere, cioè tutto ciò ha poco senso, come è stato costruito questo Parigi, ha poco senso i risultati, adesso si vedono Donnarumma che ha giocato pochissimo questa stagione, Champions League ha freddo, ha sbagliato, ovviamente a livello psicologico è stato un colpo duro, se fai uscire la tua squadra nello spogliatoio si è parlato quasi di una rissa tra Donnarumma e Neymar, Neymar è scoppiato per l'arrabbiatura e questa insicurezza francamente l'ho vista anche stasera, 3-0, ripeto, Kimbembe regala un rigore, e il rigore è tirato molto male da parte di Ben Yedder, che adesso ha segnato più gol rispetto a Mbappé, si trova proprio capolista nella classifica dei capocannonieri, comunque lui tira e Donnarumma intuisce subito, cioè Ben Yedder non vuole guardare il portiere, non vuole fare i giochetti, vuole solo tirare praticamente ad occhi chiusi, non guarda solo il pallone, e perciò Donnarumma parte molto presto, è riuscito a capire qual è l'angolo giusto, e perciò ci stava, Donnarumma aveva quella palla, è partito molto presto, è partito già prima che Ben Yedder ha tirato, e però poi con i pugni si la butta nella porta. Onestamente quando c'è un rigore, non voglio mai parlare proprio di errore, perché non è scontato parare un rigore, alla fine se pari un rigore sei un eroe, se non lo paghi è normale, è abbastanza normale nel calcio, però dall'altra parte, uno come Donnarumma, i tifosi ovviamente si aspettano qualcosina in più, ed è stata una situazione brutta, come si butta, come palla a volo, si butta dentro la palla nella propria porta, perciò anche oggi Donnarumma, parlare forse di eroe clamorosi, esagerato, sicuramente non ha fatto una buona partita, perciò sicuramente arriverà, in queste partite adesso dell'Italia, decisive, l'Italia si gioca veramente la vita, Donnarumma arriverà con pochissima autostima, questo onestamente mi fa un po' preoccupare, comunque questo PSG ormai è crollato amici, in Champions League stavano 1-0 in vantaggio, giocando poi fuori casa a Madrid, sono riusciti ancora una volta a segnare, perciò tutto sommato, i 240 minuti iniziali stavano 2-0 in vantaggio, cioè 240 minuti su 300 minuti giocati, e riescono ancora a perdere 3-1, poi sono stati veramente confusi, paralizzati, però ripeto, questo atteggiamento già dopo l'1-0, dove loro pensavano, beh adesso su 300 minuti abbiamo giocato 240, ormai ce l'abbiamo fatta, io ho visto un atteggiamento davvero arrogante, davvero superficiale, Mbappé che iniziava a fare i passaggi no look, e non sappiamo tutti che queste cose, forse, non sempre, ma forse li puoi permettere in Ligue, ma anche lì puoi rischiare, può arrivare uno che si arrabbia, e va anche sul pesante, commetto un fallo anche pesante, perciò secondo me, il rispetto non lo devi mai mancare, è sempre sbagliato mancarlo, non ha mai senso farlo, però forse, dico forse, in Ligue te lo puoi ancora permettere in alcune partite, ma farlo contro Benzema, farlo contro Modric, farlo contro Toni Kroos, farlo contro giocatori che hanno scritto la storia del calcio, che rappresentano la storia del calcio, che ormai da anni vincono tutto, hanno più pacchette, hanno più Champions League vinte come il Paris Saint-Germain, magari vincerà in tutta la sua storia mondiale, mancare di rispetto contro questi campioni, secondo me è stato un grande errore, lì poi il PSG è completamente crollato, e secondo me stasera abbiamo proprio visto che non ci sono più stimoli, non ci sono più stimoli in questa squadra, Coppa Francese sono usciti, Champions League sono usciti, League hanno, nonostante che sulle ultime 5 partite hanno perso 3 partite, ma ci rendiamo conto, nonostante ciò, ci sono 15 punti di vantaggio in classifica, questo vi fa capire, veramente quanto sia scarso, questo campionato francese, la Farmer League, League è veramente imbarazzante, cioè 3 sconfitte su 5, e nonostante ciò 15 punti di vantaggio, e perciò non ci sono più stimoli, ma secondo me non può essere una scusa, perché quando sono usciti dalla Coupe de France, tutti mi dicevano, beh Giano, ma questi qui si concentrano sulla Champions League, ogni volta quando facevano figuracce in League, con veramente le prestazioni imbarazzanti, tutti mi dicevano, beh Giano, ma questi qui si concentrano sulla Champions League, adesso in Champions League sono usciti, e continuano a fare veramente le figuracce, io oggi ho notato un linguaggio di corpo, che questi qui non si frega più nulla, dicono, beh ormai siamo in vacanze, e amici, è fallimentare, questo progetto è veramente fallimentare, ma sotto tutti i punti di vista, Lionel Messi, arrivato, due gol in League, vi ho fatto un video dettagliato, dove vi ho anche spiegato, da dove derivano questi pochi gol, perché ci sono troppe figurine lì davanti, perciò Messi ha sempre giocato talmente in basso, che non è neanche arrivato alle zone da gol, Neymar tornato dalle vacanze, l'ultima volta ingrassato, quello è una mancanza di rispetto allucinante, immaginate pagare un quarto miliardo per un giocatore, quello qui poi torna in maniera ingrassata, Donnarumma con tutto stornova, commette papera dopo papera, il presidente che per mesi, il presidente del PSG, ci ha fatto la morale, la superlega, io voglio difendere il calcio del popolo, tutte queste cose qui, dopo aver secondo me non rispettato il financial fair play, è stato imbarazzante sentire le sue dichiarazioni, dopo ciò esce dalla Champions League, minaccia, cioè si è comportato in maniera veramente scandalosa, Sergio Ramos guadagna milioni per giocare pochissimi secondi, Mbappé fosse l'unica luce del tunnel, secondo me se il PSG passava, forse cambiava qualcosa, forse lui aveva più voglia secondo me di prolungare il contratto, secondo me adesso però dopo essere uscito in questa maniera imbarazzante, non ci sono più stimoli in questa squadra, secondo me Mbappé c'è una forte tendenza di andare al Real Madrid, e onestamente non è facile, non è possibile trovare un sostituto di Mbappé, lo so adesso si parla già di Lewandowski così, però onestamente a quell'età Mbappé, forse Holland, Beh, Holland sarebbe l'unica soluzione forse possibile per il PSG, ma comunque sarà una battossa, poi anche francese, perciò anche un po' un punto di identificazione per la capitale francese, perciò fallimentare, questo progetto fallimentare su tutti i punti di vista, parliamo di pochettino, 50 anni amici, in tutta la sua carriera, ha vinto una coppetta francese, una super coppetta francese, e basta, vuoto totale, questi sono gli unici trofei nella sua carriera, giocando con Mbappé, Neymar, Di Maria e Verratti, è imbarazzante, è veramente imbarazzante, soprattutto anche che tutti i mister esonerati dal PSG, in Champions League sono andati avanti, Emery ha buttato fuori la Juventus, Ancelotti ha buttato fuori il PSG, ha buttato fuori la sua ex squadra, Tuchel che è stato esonerato proprio in maniera super fredda dal PSG, dove dicevano questo qui non è in grado di vincere la Champions League, a Natale lo hanno esonerato, subito dopo ha vinto la Champions League con il Chelsea, e adesso anche Tuchel in Chelsea, nonostante la crisi epocale del Chelsea, tutto quello che sta succedendo con Abramovic, comunque lui è riuscito a passare ancora una volta il turno, perciò tre ex allenatori del PSG, che hanno passato, che sono ancora presenti in Champions League, e il grande presidente del PSG, che pochi mesi fa diceva, Pochettino è il miglior allenatore del mondo, e Pochettino ha fatto il miracolo, anche quest'anno, di uscire dalla Coupe de France, di uscire dalla Champions League, fallimento, fallimento amici, è una roba imbarazzante, io lo ripeto veramente, una mancazza di risparmi, secondo me in questo momento, dove hanno toccato il fondo, questi qui dovrebbero dire, vabbè adesso, anche se abbiamo 15 punti di vantaggio, tiriamo fuori l'orgoglio, invece non lo fanno, giocano sempre con i titolari, anche stasera, tutti i titolari sul campo, Mbappé, Donnarumma, Verac, tutti sul campo, però un'altra figuraccia, non ci sono più stimoli, una squadra ultra, ultra ultra viziata, 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 perciò viziata fino a un certo punto, io dico, ormai questo qui è una mancanza di rispetto, non solo verso i tifosi del PSG, una mancanza di rispetto, proprio verso il calcio, in generale, questa è la mia opinione, e ripeto l'unica cosa che mi fa un po' preoccupare, è la mia amata Italia, fra quattro giorni Italia si giocherà la vita, Donnarumma in grande difficoltà, Verratti in grande difficoltà, Di Lorenzo infortunato, Mancini che deve convocare, Gio Petro perché non ci sono attaccanti, questo amici è l'unica cosa che onestamente mi fa un po' preoccupare, adesso fatemi sapere un po' la vostra opinione, vi leggo tutti amici, sempre viva il calcio e vergogna Peschi.